Un sostanziale contributo ad una migliore comprensione del fenomeno della riconnessione magnetica attraverso lo studio della regione di diffusione degli elettroni, osservata da satellite durante eventi di riconnessione in magnetosfera e la successiva modellizzazione numerica. Allora, volevo solo aggiungere una cosa. Alla fine dell'evento, se qualche ragazzo è interessato, io ho portato una copia di uno strumento che serve per misurare le particelle del vento solare e che attualmente è in orbita su una serie di satellite chiamati cluster che orbitano in orbita terrestre. Però lo strumento è molto simile a quello che sta volando attualmente su solar orbiter. È lo stesso concetto. Quindi vi farò vedere lo strumento, lo potrete toccare. Va bene? Come volete, insomma.